Ciao bellezze, come state? Spero tutte bene. Oggi, bocciati del 2022. Ok, allora... Tutto non ne ho tantissime e non di tutte le categorie, il che ci piace... No? Ok, il che ci piace anche perché vuol dire che non abbiamo speso soldi inutilmente, ok? Ho la mia box qui, ho appena finito di registrare il video dei preferiti del 2022, quindi ho letteralmente un po' un casino sul mio tavolino, ok? Per fortuna quest'anno non ho nessun primer bocciato, ne ho qualcuno, sì, ma non è del 2022, li ho, li da un po', che faccio fatica a finire. Quindi sembrerebbe, quasi mi sembrerebbe di barare a mostrarveli ora. Quindi, ecco. Però ho un bocciato fondotinta del 2022, che è questo qui di Shaglam, che tutti ne parlano benissimo, tutti lo amano, lo paragonano al fondotinta di KVD Vegan Beauty. Io lo odio, raga, ve lo giuro. No, a me assolutamente non piace. Secondo me fa troppo cironi. A parte che è scomodo, cioè, è troppo scomodo da prendere. Non capisco il senso di fare un fondotinta in un pot sostanzialmente. Io preferisco i fondotinta, io non riesco a richiudere, in tinta classici, quindi tipo a, che hanno la pompettina così, molto più comodo. Prendi davvero troppo prodotto, però questo qui è un mio parere personale. Altra cosa, dicono che è adatto alle pelli secche. Secondo me, no, almeno io mi trovo davvero male, anche perché trovo che segni davvero troppo il viso. Almeno, in discromie, varie, si divide troppo. Mi segna davvero, davvero, ma davvero troppo. Le rughette, non lo so, mi si divide. Quindi, secondo me, no, non va bene. Qui è un odio a umore, letteralmente, qui con il camouflage di Essence. Copre davvero tantissimo e questa cosa a me piace tantissimo, il fatto che copra. La pecca è che va a segnare tantissimo la zona del contorno occhi. A me questa cosa non piace. Io non la riesco a tollerare. Quando vado ad utilizzare un correttore, voglio che sia, sì, coprente, come questo, ma che non mi vada a segnare la zona del contorno occhi. Quindi, il camouflage di Essence, secondo me, per le pelli secche, assolutamente è un no. È tipo off-limits, X, quindi assolutamente no. Mi dispiace anche perché comunque ne parlano tutti strabene, ne parlano benissimo, e dicono che è un correttore fantastico, specialmente per il prezzo che ha. Io l'ho provato, ho cercato di utilizzarlo più volte, anche soltanto poco, di metterne solo una punta, ma non riesco assolutamente a utilizzarla. Allora, la cipria non è assolutamente del 2022, perché non ne ho, ma è lei, questa qui di Uda Beauty. Ve la voglio mettere perché, per chi ha la pelle secca, penso che sia assolutamente fondamentale sentire un parere riguardo alla cipria di Uda Beauty, in quanto ora sta spopolando letteralmente questa nuova cipria di Uda Beauty. Uda Beauty ha appunto non ampliato la gamma, perché già era abbastanza ampia, ma ha messo queste tre colorazioni, che ha messo tre colorazioni, una gialla, una rosa e una bianca, se non ricordo male, comunque è trasparentina. Comunque vi metto poi le colorazioni qui, in modo tale, che a chi può interessare, può andare a dare un'occhiata. Io questa cipria già l'avevo, l'ho presa quando è uscita, peggior acquisto di sempre, perché? Perché la pelle secca è davvero troppo spessa, è davvero troppo pesante, va a segnare troppo lato nel contorno occhi, non si riesce assolutamente ad utilizzare, vi va poi a dividere tutto, e questa è pensata per poter fare baking. Per chi ha iniziato a truccarsi durante quel periodo, comunque prima, e c'era durante il periodo del famoso baking, quindi 2015, 2015, 2016, sa perfettamente di cosa sto parlando. La parola baking è l'incubo più grande di chi ha la pelle secca. Il baking consiste sostanzialmente nel prendere una spugnetta, indingerla nella cipria e fare patto sotto alla zona del contorno occhi. Questo va bene perché è una pelle grassa, ma per chi ha una pelle secca, assolutamente no. Ecco, questa cipria assolutamente è off-limits per chiunque abbia una pelle secca, quindi no, cioè no, quindi no, cioè no, assolutamente no. Io vi direi sì, se avete una pelle grassa, quindi provatele, assolutamente secondo me è pazzesca come cipria, assorbe tantissimo il sebo, fissa benissimo, l'ho provata su pelli grasse ed è spettacolare, ragazzi ve lo giuro è spettacolare sulle pelli grasse, ma sulle pelli secche stati davvero lontani, sulle pelli secche davvero ve la sconsiglio tantissimo. Parto prima con un brand poco conosciuto, però magari qualcuno ha provato qualcosa, ed è Best Color, che in realtà è un brand italiano, al 100% italiano, fatemi controllare, mica che hai detto no, stupidata, sì, Torre del Greco, Italy, quindi made in Italy, ok. Allora, pecca di questi assolutamente, sono iperpigmentati, su questo non ho niente da obiettare, l'unica cosa è che non hanno, cioè non si sfumano, cioè non si sfumano assolutamente, hanno davvero tanta macchia, non si riescono a sfumare, e diventa davvero tanto, cioè diventa impossibile utilizzarli, ho provato più volte, non riesco a sfumarli né utilizzarli, li uso come ombretto, ma è davvero tanto difficile, perché comunque, cioè ho utilizzato, questo qua scusate, è lo ciprio, è davvero tanto difficile, anche perché sono belli grandi, sono all'incirca 10 grammi, a malincuore, tanta malincuore, vi devo bocciare questo duo, di Natasha Denona, io Natasha Denona, l'amo, l'adoro, alla follia, così come Charlotte Tilbury, ma questo duo, non riesco ad utilizzarlo, cioè, così come quelli di Best Color, non si sfumano, non si sfumano, raga, non riesco ad utilizzarli, non si sfumano, e, questo illuminante, invece fa macchia, fa letteralmente macchia, cioè mi lascia tipo l'alone, lì, piazzato, bello, e, cioè, io non posso andare in giro, raga, con questo alone, piazzato, così, è davvero imbarazzante, brutto, e quindi, nulla, mi dispiace, perché comunque, cioè, ok, è una mini, è una mini size, però, cioè, il prezzo c'è, non possiamo dire che il prezzo non c'è, anche per essere una mini size, di conseguenza, cioè, anche no, qui, mi sono arrabbiata, e non poco, anche perché comunque, conoscendo il brand, conoscendo il brand, non mi aspetto assolutamente questa pecca, questo fail enorme, lui, secondo me, è tipo il male, in assoluto, a me, non lo so, io non lo riesco ad utilizzare, infatti, ho, rotto, letteralmente, il poffettino sopra, la spugnetta, e, perché non riuscivo assolutamente a prelevare il prodotto, che era rimasto l'incastrato, questo qui è l'illuminante, di Max Factor, è il Miracle, Scalping Wand, Wand, ok, ho, letteralmente, rotto la spugnetta, come vi dicevo, ma, niente, cioè, faccio ancora fatica, a, picchiettare, a tirare giù, tutto il prodotto, perché, resta ancora lì, inglobato, e, cioè, davvero, ma davvero, davvero assurda, come cosa, per scindere tutti i prodotti, che hanno all'interno, una spugnetta, sono un po', off limits, perché, qualsiasi prodotto, resta un po', inglobato, e non si riuscirà mai, a tirar giù del tutto, ho fatto la stessa cosa, con l'Instant Anti-Age, di, Maybelline, però, è già diverso, perché qui ha una rotellina, che gira, invece, in questo caso, dobbiamo essere noi, a spremere, quindi, è davvero difficile, la sito qua, sopracciglia, a malincuore, devo, assolutamente, dire di no, a lui, che è il, The Brow Glow, di, di NYX, io l'ho amato, a inizio, ve lo giuro, io l'ho amato, non facevo, altro, che utilizzare lui, ma non lo riesco a utilizzare, lo utilizzo, sempre prima, comunque, di, di truccarmi, lascio che si asciughi, tutto il resto, ma, trovo che poi le ciglia, restino troppo appiccicate, quasi come se fossero, colla, io non riesco, non riesco a utilizzarlo, secondo me, è davvero, troppo, non so, magari, ha fatto, ha fatto, già il suo deco, corso, non lo so, però, secondo me, è davvero, così come, questo qui, di Revolution, che è il Subbrow, qui, devo ammetterlo, che l'ho preso, perché andava tanto di moda, la questione del Subbrow, e volevo provarle, ma, sinceramente, proprio, questo prodotto, non lo specifico, non lo riesco a utilizzare, preferisco, piuttosto, utilizzare la saponetta, per dirvi, che utilizzare questo prodotto, perché, sfrega, 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 ok, ma, non riesco a ricavarne niente, e non mi si appiccica nulla, non si fissa niente, e, ragazzi, piuttosto preferisco, butta, già, darlo, che tenerlo, non riesco a ricavarne, davvero, ma davvero niente, siamo giunti, letteralmente alla fine, questo è l'ultimo prodotto, ovvero, questi rossetti, di You Kiss, che è un brand coreano, ragazzi, a me non mi piacciono, a parte che l'odore è un po' strano, si, è alcolico, tipo, la colorazione è long black, non ha niente che non vada la colorazione in sé, è molto bella, ma non capisco il senso di questi rossetti, cioè nel senso, ok, per me, che sono al di fuori, dal make up coreano, non lo riesco a capire, quindi forse è una cosa soltanto mia, ok, quindi forse è un bocciato per me, perché sono fuori dal concetto di make up coreano, ma non riesco a capire questi rossetti, che tu gli indossi, li metti, e poi li devi togliere, cioè, non capisco, raga, io non capisco il senso di questo tipo di rossetto, di questi rossetti, magari sarò io, cioè, una cosa mia, però non li riesco a proprio capire, quindi, no, per me è un bocciato per questo, poi per il resto comunque è molto carino, anche se devo dire che pizzica davvero molto sulle labbra, quindi non lo vado neanche a cercare per questo, di per sé è un po' bocciato per tutto, questi erano tutti i miei bocciati del 2022, nei commenti, nei commenti fatemi sapere quali sono i vostri bocciati del 2022, è arrivata praticamente in ritardo, per mostrarvi tutti i miei bocciati del 2022, ma lo prometto, l'anno prossimo arriverà un po' più puntuale, io vi mando un grossissimo bacio, vi aspetto al prossimo video, io vi mando un grossissimo bacio, e ciao!